Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6. L'anticiclone nord-africano che sovrasta tutta Italia inizia a perdere colpi, lascia scorrere aria leggermente più instabile e fresca in alta quota, almeno dal weekend sino a metà prossima settimana. Quindi si prospetta un periodo un po' più dinamico, però ancora abbastanza caldo su tutto lo stivale. Per quanto riguarda questo sabato, poche variazioni in Abruzzo. Avremo cieli prevalentemente sereni con qualche addensamento pomeridiano in montagna, qualche raro temporale sulla conca quinana, la marsica, però fenomeni davvero molto isolati di brevissima durata. Le temperature stazionarie massime tra i 32, 34, 35 gradi, mime tra 21 e 27 gradi, insomma ancora temperature tropicali su tutta la regione. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.